ed è la volta di... arriva dalla Spagna no, arriva proprio dalla Spagna, ti assicuro scusate, non arriva dalla Spagna ma arriva da Sudafrica, grazie, grazie, dopo diremo il nome di chi mi ha suggerito correttamente arriva da Sudafrica, Tania Haberland grazie, 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 grazie grazie, 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 gra going back I keep going back I keep going back to an island moist with death curled with the bones of lives unfinished the moon is big there and moves the waters with an ardent magnetism and the phosphor at night peaks through the sea the eyes and lights of a drowned city spill onto beach sands beloved beloved by tourist brochures do all islands contain the whispers of our souls do all islands contain the whispers of our souls in the leaves of their coastal trees perpetually moving to the beat to the beat to the beat of the wind tolling to and fro like a restless head on a sleepless pillow or is it just this land of lotus eaters that wraps its lagoon around my feet asks me to eat in wonder and never it's the softness of the air that entangles me languid and familiar before becoming despondency trapped by tropical humidity my eyes my eyes can no longer no no longer see the deep opening beyond the reef and my ears my ears keep hearing the crash of waves on the barriers this grave is beautiful this grave is beautiful my ancestors my ancestors live here and call me Dania Aberland e lo so il problema è che chi deve votare insomma è in una situazione molto difficile però questo siete chiamati la diabbendata ha scelto voi e quindi vi ascoltiamo qual è il vostro verdetto voto su le mani tenetele su tenetele su 10 lei sta venendo comunque una paralisi perché io vedo sempre non so se ha capito perché io dico su le mani lei sta facendo sempre la ola no non è così no lei se pensa che tutti valgono 10 non si faccia remore non è che può cambiare perché dice no dopo pensano che voto sempre 10 no sempre diretta e coerente con se stessa no no guardi se stessa perfetto perfetto bravissima quindi alla fine della fiera sempre la ola per la signora 10 9 8 9 e 9 questo è il punteggio quindi resta via un 10 via tenetele su che non ho capito allora c'era un 10 c'era un 8 quindi restano 3 e 9 giusto? sì no scusate mi sono lasciato prendere la mano 3 e 9 ed è la volta